Nome. Philip Karl Jablonski. Numero vittime. 5. Modus operandi. Stupro, strangolamento, arma da fuoco, accoltellamento, mutilazioni. Philip Karl Jablonski è nato il 3 gennaio 1946 negli Stati Uniti. La sua infanzia fu compromessa da un padre alcolizzato, molto violento con tutta la famiglia, abusava sessualmente della moglie e dei figli, tra cui Jablonski. È il 1966 quando incontrò quella che sarebbe diventata la sua prima moglie, e sempre in quell'anno si arruolò nell'esercito e trasferito all'estero. Quando tornò, nel 1968, si sposò. Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma quella terribile infanzia aveva lasciato nella psiche dell'uomo, segni indelebili. Diventò sessualmente molto violento. Una notte, mentre facevano sesso, Jablonski prese un cuscino e cercò di soffocare la moglie. Stava diventando via via sempre più violento, non solo durante i rapporti sessuali. Bastava poco per farlo adirare e, in più di un'occasione durante discussioni con la moglie, cercò di strangolarla. La situazione diventò così disperata che la moglie lo lasciò. È il novembre 1968, non passò molto tempo che Jablonski conobbe un'altra donna. L'uomo la violentò al primo appuntamento, mettendola incinta. Non si sa come, nonostante questo fatto, la donna non lasciò Jablonski. La coppia si trasferì in California un anno dopo. La compagna era oggetto di violenze quasi sempre. Le perversioni sessuali di Jablonski erano così estreme che la donna doveva pregarlo di smettere. Ma lui non smetteva. Una volta, mentre lei lo implorava, lui tirò fuori la pistola e la minacciò di spararle se non lo avesse lasciato finire. Poi la colpì con il calcio dell'arma e abusò del suo corpo privo di sensi. Dopo anni di terribili abusi, riuscì a lasciarlo nel 1972. Ormai l'uomo si stava abissando nella follia più pura. Sempre in quell'anno entrò in casa di una conoscente. Anche se con lei c'era il suo bambino, a Jablonski non importava. La aggredì e la stuprò ma la ragazza riuscì a scappare verso la casa dei vicini dove chiamò la polizia. L'uomo fu arrestato per stupro e dovette scontare la pena in carcere fino al 1977. Quell'anno conobbe Linda Kimball. Pochi mesi dopo la loro conoscenza andarono già a convivere ma la relazione durò poco. L'uomo andò a casa della madre della ragazza per stuprarla ma poi, probabilmente per un ripensamento, si trattenne. Ma ormai l'aggressione era quasi avvenuta. Linda comprò dunque i biglietti per scappare a Parigi. La mattina del 16 luglio, Kimball tornò nell'appartamento che aveva condiviso con Jablonski per raccogliere le sue cose e partire. Fu trovata il pomeriggio stesso morta, picchiata, pugnalata e strangolata a morte. La polizia arrivò subito al colpevole che fu condannato per 12 anni. È il 1990 quando la corte decise di lasciare Jablonski in libertà vigilata, sebbene cinque anni prima ha tentato di strangolare la sua stessa madre. Grosso errore. Durante il suo periodo di detenzione aveva pubblicato un annuncio per cuori solitari. È il 1982 quando conobbe e sposo Carol Spadoni, 42 anni. Quando uscì da galera lo psicopatico, ormai fuori controllo, andò subito a trovare Carol, la quale lo lasciò per il suo carattere violento. Quel giorno si trovava a casa della madre Eva Petersen, 72 anni. L'uomo le assassinò terribilmente. Carol è stata picchiata e le è stata avvolta la testa con del nastro adesivo, facendola morire soffocata. La madre Eva picchiata, stuprata e uccisa a colpi di pistola. Sembrava che chiunque avesse interrotto ogni tipo di relazione con Jablonski doveva morire. Un'altra donna era in pericolo. Fatima Van, 38 anni, ex compagna di scuola dell'uomo. Durante il periodo di libertà vigilata ebbe dei rapporti sessuali con lui fino al 1991. La sorte della donna fu agghiacciante. Fu trovata cadavere in una fossa. Era stata denudata e sulla schiena l'assassino le aveva inciso la scritta, I love Jesus, io amo Gesù. Fatima, mamma vedova di due adolescenti, fu stuprata, uccisa con un colpo di pistola alla testa, mutilata, le furono cavati gli occhi e tagliate le orecchie. 27 aprile 1991. Margie Rogers, 58 anni, fu trovata morta nel suo negozio nello stato dell'Oiuta. Questa volta l'assassino non la conosceva. Voleva rapinare il negozio, ma il sadico non si fermò lì. La stuprò e le sparò due volte alla testa. Già noto alle forze dell'ordine per omicidio e per stupro, Jablonski fu il primo sospetto. Tanti erano gli indizi lasciati sulle scene dei crimini, tra cui il suo sperma. Fu arrestato il 28 aprile 1991 e considerato capace di intendere e volere, quindi processabile. È stato condannato a morte. Muore il 27 dicembre 2019.